Amici sportivi di Teletermini, collegamento in diretta dalle prove speciali della 102esima edizione della Targa Florio. Siamo appena a conclusione del primo giro di prove speciali ed è ripreso il secondo. Dopo la Scillato 2, che è la prima prova del secondo giro, che ha visto trionfare il sicilianissimo Nucita, seguito dall'altro siciliano illustre Totò Riolo e in terza posizione Andreucci, la classifica generale è ancora una volta cambiata perché adesso troviamo proprio il sicilianissimo Andrea Nucita in prima posizione della generale a bordo della sua Hyundai i20 del team Bernini, seguito da Paolo Andreucci con la sua ufficiale Peugeot 208 T16 R5, terza posizione del podio occupata da Panzani a bordo della sua Ford Fiesta Evo 2, quarto Umberto Scandola, quinto l'altro siciliano illustre Riolo, seguito da Marco Pollara, settima posizione per Giuseppe Testa, ottava per Michelini, nona per Rusce e decima posizione per Scattolon. Adesso le vetture stanno proseguendo per il secondo giro delle prove speciali e vi informiamo che la classifica è cambiata ripetutamente nel corso della mattinata di gara proprio perché questa mattina è stata pesantemente condizionata dalle incerte, sì, dalle incerte condizioni meteo che hanno determinato delle scelte diciamo abbastanza azzardate per quanto riguarda le gomme per tutti i piloti in gara. Non vi segnaliamo particolari incidenti, per fortuna a differenza dell'edizione scorsa questa diciamo che sta procedendo in maniera più liscia e più tranquilla.